buongiorno benvenuti a questo programma speciale forum negli studi del parlamento europeo qui a brussel coprodotto da ansa tv e europal tv oggi parliamo di orizzonte 20 20 enrico che cos'è orizzonte 20 20 un film futurista di che cosa parliamo assolutamente una cosa molto seria è il programma di finanziamenti per l'innovazione della ricerca che l'unione europea appena valato con una quantità di risorse destinate a questi scopi che è la più ingente da quando questo strumento è stato creato bene allora vi propongo di presentare subito i nostri ospiti alla mia destra carlo corazza che è il portavoce del commissario tagliani responsabile per l'industria e l'imprenditoria buongiorno invece alla nostra sinistra il direttore dell'ufficio di bruxelles di union camere flavio burlizzi buongiorno e infine andrea cozzolino eurodeputato eletto nel gruppo dei socialisti e democratici buongiorno grazie di essere venuto ecco allora adesso entriamo nel vivo del tema e per cercare di capire come le piccole e medie imprese possono sfruttare queste risorse che sono state loro destinate su un ammontare complessivo di 70 miliardi di finanziamenti assegnati al programma orizzonte 2020 c'è una quota importante che può essere utilizzata dalle pmi cominciamo da allora carlo corazza si cominciamo da lei ci svegli il segreto perché orizzonte 2020 che poi insomma è tra sei anni non bisogna neanche sognare forse tanto ma perché orizzonte 2020 sarà migliore e diverso dal precedente il settimo programma quadro quali sono le novità innanzitutto dal 2014 avremo molti più fondi ricordiamoci che il settimo programma quadro non solo 54 miliardi solo si fa per dire 54 miliardi da spendere in sette anni per 27 miliardi diciamo che il compromesso 70 71 miliardi in valore attuali è un buon compromesso poi ci saranno strumenti di accesso al credito di accesso ai finanziamenti e di sostegno dei venture capital che era forse la cosa che più che c'era in parte ma non in maniera sufficiente nel precedente programma il nostro il problema principale che noi abbiamo in europa sono le start up che finiscono nella valle della morte non riescono a passare quella fase di avviamento per mancanza di capitali e anche se magari hanno dietro idee brevetti innovativi poi non riescono fino ad andare sul mercato qual è il punto di vista delle imprese davanti a questi programmi e come sono stati strutturati promuovete l'azione avete riserve che noi abbiamo lo sforzo che è stato fatto in questo programma è importante è importante probabilmente alla fine non è sufficiente ne parlavamo anche in questi giorni con colleghi che dell'italia con cui siamo incontrati su questo tema non è sufficiente di fatto perché la piccola e media impresa ha bisogno probabilmente di una struttura di programma che oggi è limitata a una minima quota del programma quadro del nuovo programma orizzonte 2020 che ha bisogno di essere accompagnata 10 11 per cento che però di fatto vuol dire su un periodo il famoso strumento PMI che è stata una grossa vittoria per chi voleva appoggiare e supportare il discorso delle economie di imprese però di fatto vuol dire su sette anni circa 5.500 imprese che potranno passare alla prima fase e 2.000 imprese che potranno arrivare a una finanziabilità di progetto per loro. Parliamo di imprese italiane? No, no, parliamo di imprese europee questo sullo strumento PMI, uno strumento concepito apposta, nuovo, che parla il linguaggio delle imprese che è seguito come dovrebbe essere seguito anche da parte della Commissione. Onorevole Cozzolino, mi scusi, adesso ritorno a lei però volevo soltanto che Carlo Corazza ci spiegasse questo perché questa è la grossa novità, c'è una linea di budget adesso destinata solo alle piccole e medie imprese vuol dire che c'è un accesso diretto a questi fondi indipendentemente dalle partnership? C'è una linea di credito e di venture capital destinata alle start-up, cioè alle nuove piccole e medie imprese che hanno idee innovative che come sul modello americano sono portatrici di brevetti o di nuovo know-how e che quindi potenzialmente se l'idea va nel mercato possono diventare delle imprese molto competitive. Ecco, questo è molto interessante perché poi si deve applicare sul territorio. Onorevole Cozzolino, come traduciamo tutto questo? Io segnalerei un fatto positivo, in un quadro non positivo europeo in questo momento. Io sono stato particolarmente non favorevole alle linee di bilancio, abbiamo meno risorse a disposizione nei prossimi anni però qui siamo in presenza di una novità. Per la prima volta abbiamo la scelta netta che l'Europa fa di mettere un'attenzione particolare verso il sistema produttivo europeo. Questa mi sembra la novità. Cioè, è la prima volta che si fa una scelta in cui l'Europa mette l'accento sul sistema produttivo europeo. Adesso dipenderà dagli stati membri. Queste sono solamente risorse che l'Europa mette a disposizione. Quanto implementerà l'Italia in termini di risorse e di scelte di politica industriale? Quanto farà la Germania? Abbiamo fatto un giro già sulla novità, sembrate già tutti d'accordo. Vediamo dopo se sulla maniera concreta di arrivare a questi fondi magari non sono tutte rose. Vi interrompo un attimo. Guardiamo insieme quello che hanno detto altri eurodeputati su questo orizzonte 2020. e anche ce lo racconta Johanna Gill. No, non è il titolo del latest sci-fi film rilassato al cinema. È uno dei più ambito fondamentali programmi. Il suo obiettivo è di aumentare la ricerca e l'innovazione in l'Unione europea durante un periodo di 7 anni. Horizon 2020 non è limitato a l'academici mondo. È anche per il supporto per i bisogni. Come? Per allogare 4% di il budget, più di 3 milioni di euro, e per simplificare le procedure per i fondamenti applicazioni. È una delle ragioni per aiutare il risultato di sviluppo europeo in il mercato, e per andare da frontiere riscogliare a economici opportunità. We have many situations where something, an idea, a concept is developed, the research is developed in Europe, and this gives rise to a product that is produced somewhere else in the world, even when the market is back in Europe. And we want to avoid this. Social innovation is also one of the objectives included in the program. The aim is to fight poverty in the EU. However, for some MEPs, there's not enough of a focus on this area. It must be said that the parliament has wished to designate 100 billion euros to the Horizon 2020 program. In the end, they got just 70 billion. Il Parlamento crede profundamente che le recorti presupposti, soprattutto in un'epoca di crisi, non deve affectare le materie che come la investigazione, la innovazione e l'educazione sono a base di nostra capacità di crescere e di nostra competitività. Innovative SMEs in Europe can issue one or several applications for funding, for projects linked to its area of activity. A major new feature of this is that a business will from now on be able to apply independently. Ecco, allora, torniamo in studio. Dottor Burlizzi, sappiamo quanto è drammatica la situazione italiana, dove ci sono migliaia di fallimenti, disoccupazione, ed è un male che colpisce il sistema portante della produzione nazionale. Come intendete agevolare adesso, guidare, accompagnare le imprese? Lancerete anche voi dei programmi mirati? Aprirete degli sportelli dedicati? La nostra azione è, direi, da sempre un'azione di supporto sul territorio alle piccole e medie imprese. Qui stiamo parlando, in verità, di una certa tipologia di piccole e medie imprese. Non ci dimentichiamo che il programma è importante, che il segnale dato dall'Europa è importante, ma noi stiamo dando una guida verso una tipologia di imprese con un'impresa d'eccellenza. Noi dobbiamo riuscire a cercare in tutti i modi di portare le imprese di più piccole dimensioni, che sono quelle che innovano di meno, che partecipano in maniera marginale a queste opportunità all'interno di questi programmi. Noi abbiamo sposato alcune strategie, anche europee, come la rete Enterprise Europe, che è una rete fortemente radicata sul territorio, ma nell'ambito della ricerca non è sufficiente. Noi dobbiamo assolutamente migliorare il nostro lavoro insieme alle altre organizzazioni che sul territorio svolgono compiti più specifici su questo tema. Stiamo costruendo una forte collaborazione con loro, con le associazioni, ma anche con i centri di ricerca, con le università, che, ripeto, questo è un tema molto importante e continuano ad essere la colonna portante di questo Orizzonte 2020. Non ci dimentichiamo che le risorse vanno soprattutto a questa fascia di interlocutori. Carlo Carazza, parliamo molto di start-up fino ad ora, ma il grosso dell'economia europea è rappresentato anche da piccole e medie imprese che non sono start-up. Per loro cosa si fa? Allora, due cose. Innanzitutto, oltre a Orizzonte 2020, c'è COSME, che è un programma designato apposta per le piccole e medie imprese più o meno innovative. Su COSME abbiamo un miliardo e quattro solo per l'accesso al credito e i venture capital. Questo vuol dire 20 miliardi mobilizzati perché c'è un effetto leva molto alto, almeno per l'accesso al credito. Sì, ma COSME in realtà è una garanzia su dei prestiti della BEI, se non mi sbaglio. Come funzionerà concretamente COSME? L'accesso al credito è il problema numero uno in questo momento in Italia, ma non solo in Italia, in buona parte dei paesi del Sud Europa. Senza l'accesso al credito non si innova, non si fa nulla, non si impiega. La parte di piccole e medie imprese che sono sane ma non riesce ad arrivare alle banche può avere uno strumento comunitario di garanzia che funziona. Finora abbiamo finanziato 300 mila piccole e medie imprese, questo vuol dire aver creato 400 mila posti di lavoro. Con COSME speriamo di arrivare a 400 mila nuovi finanziamenti e mezzo milione di nuovi posti di lavoro. Per essere precisi, questa garanzia di COSME attraverso soldi della Banca Europea per gli investimenti arriverà se la banca nazionale presta dei soldi? Quindi comunque la banca deve prestargli questi soldi? La banca rischia molto di meno perché noi mettiamo dei soldi vincolati in un fondo della BEI e se il prestito va male la banca non perde il 100% di quello che ha prestato, perde il 50%. Quindi c'è una fortissima riduzione del rischio della banca e quindi è incentivata, e chiaramente il meccanismo deve essere sempre di mercato perché se no andiamo non si sa dove, però è un meccanismo di mercato dove il rischio per la banca è fortemente diminuito e quindi di fatto ci sono molti più prestiti. Noi non abbiamo solamente questi due strumenti su cui è giusto concentrare l'attenzione, poi abbiamo tutta la politica dei fondi strutturali. Una parte dei fondi strutturali, quelli che vanno alle regioni, sono anche risorse che vanno alle piccole e medie imprese con programmi regionali e nazionali. Siamo anche lì nell'ordine di decine di miliardi che andranno verso le nostre piccole e medie imprese. Noi abbiamo un problema di ritardi nell'uso dei fondi europei. Ah guardi non lo dica a me, perché sta toccando un punto delicatissimo, io penso che siamo in presenza di un vero e proprio fallimento della gestione delle risorse comunitari nel programma 2007-2013. C'è una grandissima responsabilità degli stati membri, una grandissima responsabilità delle regioni, soprattutto in Italia delle regioni del Mezzogiorno, che sono venute meno a un impegno che hanno contratto con l'Europa nell'utilizzo di queste risorse. Mi scusi ma adesso sembra quasi che l'Europa è tutto perfetto, i soldi ci sono, sono tantissimi. Ricordiamo che i soldi per esempio per Orizzonte 2020 sono 30 miliardi di meno di quello che aveva chiesto il Parlamento, quindi sono molti ma sono 70 invece di 100, quindi da spendere in 28 paesi per 7 anni. Quindi tutti questi soldi non sono. Ma ammesso che ci sono i soldi e che c'è una seria difficoltà per spenderli, non c'è in realtà un vero problema su come riuscire ad accedere a questi fondi. Possiamo parlarne un po' di più? Sappiamo che le imprese prima di riuscire a riempire le procedure, a ottenere un programma, anche a saperlo, hanno moltissime difficoltà e la maggior parte rinunciano perché si scoraggiano prima. Lei che ne pensa per questo? Cosa fate voi per chiedere alla Commissione di essere più semplice alla fine, di non appesantire troppo un sistema che è già bloccato? Ma il problema della semplificazione delle procedure, di come si devono introdurre le domande, è un problema ormai storico nei rapporti con le istituzioni europee e devo dire che nell'ambito della ricerca si è cercato di forzare qualche soluzione. Devo dire che ci sono ancora tantissimi, tantissimi dubbi, perché di fatto il meccanismo di Horizon 2020, ma il meccanismo dei fondi europei tematici, come quelli di cui stiamo parlando oggi, ha una caratteristica, ha la trasnazionalità. Ora, le nostre imprese devono lavorare su un'apertura mentale, su un'apertura di progettualità che di fatto limita molto le capacità e le possibilità di partecipazione. Lì noi dobbiamo investire con l'assistenza, di fatto. Allora, Carlo Corazzo, come alleggerire il sistema? Da un lato noi, invece di dare lezioni a tutti gli stati membri, dobbiamo cominciare anche a fare ordine a casa nostra. Cioè la Commissione è troppo burocratica, ha delle procedure troppo complicate, specialmente per le piccole e medie imprese. Il principio, pensa in piccolo, che abbiamo sbandierato per tanti anni con lo Small Business Act, l'abbiamo attuato ancora troppo poco. Ma questo non cambierà adesso. E credo che l'Orizzonte 2020 sarà una buona occasione per fare i conti con un'eccessiva... Però le procedure restano lunghe e pesanti, bisogna fare i report... No, le sto dicendo che infatti dobbiamo cambiarle e renderle più semplici. Il secondo problema è un problema di dimensione delle nostre imprese. Le nostre imprese sono troppo piccole, a volte, quindi il sistema dei cluster, cioè mettersi insieme seriamente con gruppi di piccole e medie imprese che lavorano in determinati settori, penso ad esempio all'efficienza energetica, o la bioeconomia, o le tecnologie di base fondamentali, delle sorte di distretti, università, centri di ricerca, e anche a livello transnazionale insieme partecipare ai progetti di Orizzonte 2020. Il Parlamento può fare qualcosa per controllare che effettivamente le procedure vengano snellite, vengano ridotte? Ovviamente c'è un'azione prevalente della Commissione. Noi abbiamo fatto una battaglia in questi anni perché i regolamenti siano semplificati, di resti più trasparenti, meno burocratici, più diretti nel rapporto con... chi dovrà utilizzare queste risorse. Però fatemi aggiungere un'altra cosa. Non è solo un tema di risorse, è anche di politica europea. Per esempio, è un tema di politica di difesa commerciale europea. Cioè non basta dare le risorse alle nostre imprese, non basta dare più credito, non basta dare agevolazioni per le start-up. Occorre costruire una politica europea, su questo che marchiamo ancora a ritardo, che difende i nostri prodotti, che difende i nostri prodotti sui mercati internazionali. Questa è la svolta che dobbiamo inaugurare nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Ma stiamo parlando anche del Made in? Stiamo parlando del Made in, ma stiamo parlando complessivamente di un sistema di difesa commerciale europea. Questa è la condizione essenziale per dire a chi vuole investire, coraggio, investite. Perché vi difendiamo sui mercati internazionali. Non sono barriere, sono barriere o condizioni di reciprocità. Sono condizioni di reciprocità molto attenti, ma bisogna avere però condizioni di reciprocità e convincere di sostenere. Noi abbiamo un sistema di difesa commerciale in questo momento, che per esempio non esiste negli Stati Uniti dell'America. Gli Stati Uniti sono più in grado di difendere le loro produzioni. Carlo Grazio. Allora io penso che questo sia un punto centrale. L'Europa deve diventare più amica dell'industria. Dobbiamo ritornare a un posto dove la gente investe in maniera convinta e decide di produrre in maniera convinta. E per questo dobbiamo cambiare. Non possiamo difendere lo status quo. Il punto della difesa commerciale è un punto importante. Il punto di un accesso effettivo. Quando negoziamo con il Giappone, con la Corea, adesso con gli Stati Uniti, va benissimo. È nostro interesse avere degli accordi di Belosco, ma bisogna negoziare bene, non bisogna essere ingenio, bisogna togliere le barriere tecniche. Però io vorrei riportarvi sul tema della discussione. Perché stiamo parlando dell'accesso al credito per le piccole e medie imprese, che è il dramma soprattutto per l'Italia. Il 2012, più di 12.000 imprese hanno chiuso ancora una domanda da farvi. Ghisce unico europeo, sarebbe una soluzione? Cioè mettere in rete le imprese? E come arrivare alle piccole imprese della Campania, della Sicilia, della Basilicata? Come si può, chiedo, insomma agli attori qui presenti? Su l'accesso al credito noi abbiamo lanciato un portale unico, dove ci sono tutti gli strumenti che offre dalla Banca Europea per gli investimenti, Cosme, Horizon 2020, fondi regionali, tutti gli strumenti che l'Europa mette a disposizione per aiutare l'accesso al credito. Che ripeto, è il problema numero uno per la reindustrializzazione. In Lombardia, come in tante altre regioni d'Italia, le imprese vanno e una su due non ottiene quello che chiede. Questa è la realtà dei fatti. Come possiamo, cosa si può fare per cambiare una situazione che appunto per molte imprese italiane significa fallire? Posso essere letto, investire molto di più in un sistema bancario fatto di banche locali, che hanno una capacità e una conoscenza del territorio. La rete delle camere di commercio possono essere da filtro, diciamo così, nella selezione di questi soggetti intermediari finanziari e i fondi europei devono servire per accompagnare il rischio. Ma come si fa a dire alle banche locali di avere coraggio e fidarsi delle piccole imprese? Bisogna dare soldi pubblici in garanzia. Bisogna dare soldi pubblici in garanzia e poi secondo me occorre da questo punto di vista superare l'idea che la Banca Europea, diciamo così, possa intervenire solo per acquistare sul mercato secondario il debito pubblico. La banca centrale. La banca centrale, cioè occorre da questo punto di vista un nuovo indirizzo. Occorre una svolta. Cioè non se ne può più di questa politica dell'austerità per l'austerità. Questa uccide l'economia, ammazza la società europea, distrugge il disegno europeo e rende tutte le cose che facciamo, anche gli sforzi che stiamo cercando di dimostrare stamattina, impossibili. Carlo Corazza, nella commissione che sta quasi a fine mandato, mi scusi un attimo, c'è una nuova sensibilità perché da poco è stata messa sotto accusa la Germania, sembrava così un tabù infranto. Adesso arriva pure dentro la commissione europea? La commissione europea ha detto chiaramente che un eccesso, un surplus commerciale è un problema. Che è quello della Germania che ha un surplus del 6%. E' una novità? Sì, è una novità, ma insomma... Quindi il vento è cambiato pure dentro la commissione barroso? Beh, barroso ha dichiarato che c'è un limite all'austerità e questo secondo me è stato un punto di svolta. Il mio vicepresidente dice a titolo personale, una cosa molto simile a quello detto di un'altra cosa, cioè che la banca centrale deve essere diversa. Nella guerra generale per i mercati non possiamo essere il vaso di coccio gli unici che hanno una banca centrale che guarda solo alla stabilità e non guarda alla disoccupazione e alla crescita. Perché così ci faranno del male. Cioè, quando Tagliani pone il problema di una banca centrale come la Federal Reserve e del valore dell'euro pone delle questioni centrali per la nostra competitività industriale. Ed è un dibattito che deve continuare anche in vista delle elezioni europee. Non bastano gli speddo. Occorre guardare anche la disoccupazione giovanile che cresce. E si torna là. Enrico, va bene così. Ma noi seguiremo questo dibattito. Perché adesso che i soldi, come dire, saranno lì dal 2014 noi verremo a chiedervi se sono spesi. Unione Camera ce lo deve dire. Allora, vi ringraziamo molto per aver partecipato a questo dibattito. E per questa trasmissione è tutto. Anza TV e Europal TV vi ringraziano. Alla prossima. Arrivederci.